Perentino è una squadra solida, dopo un inizio di campionato dove si è assestata, adesso ha trovato la sua identità, soprattutto nei suoi giocatori chiave che si esprimono in attacco sempre a grande livello. A partire da Omar Thomas che però non sappiamo se sarà della partita perché ha avuto un problema muscolare, quindi questa sarà la vera incognita della partita. Poi Bucci che è la guardia titolare che comunque sempre in ogni partita riesce a fare molti canestri soprattutto con la sua capacità di usare i blocchi e di tirare da fuori. L'altro giocatore fuori categoria è sicuramente il lungo Biliga che già si è espresso in Serie A con ottime cifre e in questo campionato sta dimostrando di essere un fattore. Ferentino è una squadra solida perché oltre ad avere una sua identità soprattutto in questi giocatori riesce sempre a mettere in campo quello che cerca di preparare per la partita avversaria. Infatti questi giocatori sono molto bravi ad andare nell'obiettivo che si pongono per la partita. Quindi a Ferentino sarà sicuramente una gara dura, molto dura perché noi abbiamo in casa dimostrato di essere bravi anche quando squadre talentuose riescono a metterci in difficoltà a ritrovare i nostri punti nei giocatori fondamentali. Però in trasferta questa cosa ancora ci riesce difficile quindi il prossimo step deve essere mettere sempre in campo la stessa energia e lo stesso atteggiamento anche contro squadre come Ferentino che comunque faranno di tutto per impedire alla nostra squadra di giocare la nostra partita. Grazie. 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 Grazie.